Ben ritrovati a un nuovo punto di vista. Appuntamento con Roby Extra sul numero di novembre della nostra rivista. Trovate un bel ritratto di Oliviero Bosatelli da parte del fotografo e autore Matteo Zanga. Lo abbiamo in studio, ben trovato. Campione di ultratrail, grande passione per la corsa che ha avuto risultati più eclatanti, forse già un po' in tarda età. Diciamo di sì perché ho sempre corso, però facevo gare corte, mezza maratona, maratona, ma poche. Poi ho smesso per problemi fisici. Poi mi è ritornata la voglia di rimettermi in gioco, di iniziare ad andare a camminare. All'inizio io lungo i sentieri della nostra valli bergamasche. Poi mi ha affascinato queste gare lunghe, ho iniziato a prepararle. Ho fatto la prima che mi era uscita bene, con un bel risultato, l'Europa Ultratrail che è stata proprio la mia prima ufficiale dove ci ho messo anima e corpo. Arrivando secondo, da lì ho iniziato a fare tante altre gare di lunghe distanze perché ovviamente per una certa età il corto diventa un po' non sei più competitivo. Ho provato a specializzarmi su queste qua lunghe e ho vinto diverse gare. Ovviamente a una certa età, l'ultimo Tor de Jean che ho vinto ad esempio a 50 anni, poi mi è subentrato un po' un acciacco che tuttora non riesco a debellare. Quindi diciamo che ho tirato un po' i remi in barca. Però non demordi. No, io spero sempre di sistemare questo problema per provare a ritornare competitivo, anche se ovviamente la carta di identità parla. Magari non negli assoluti, magari di categoria, però dai, non demordo. Ogni tanto ci provo a ricominciare a correre, anche se poi il problema si farà risentire. Però dai, non molliamo. Eri stata una sorpresa appunto all'Europa Ultratrail o sei stato a maggior ragione al Tor de Jean? Tutte e due. Diciamo che mi ricordo quando sono arrivato all'Europa Ultratrail, io in questo mondo ero uno totalmente sconosciuto. Però per chi mi conosceva da vecchia data, sapeva che avevo degli ottimi tempi sulla mezza e sulla maratona. Quindi dicevo sì, è una novità, però non è che è proprio spuntato da nulla, perché ovviamente avevo dei buoni tempi sulla maratona. Da lì, l'anno dopo, mi sono iscritto al Tor de Jean, perché bisogna iscriversi almeno sei o sette mesi prima. Sono stato fortunato di essere estratto, perché i concorrenti che vogliono partecipare sono tantissimi, però ho un numero chiuso. Quindi sono stato fortunato di essere stato estratto e come grande stupore sono arrivato primo, anche se il cronista Gavène solo aspettava che io avessi fatto un ottimo risultato e così è stato. Una sorpresa, diciamo, per chi non se ne intende troppo, quindi i più attenti ti tenevano d'occhio. Sì, 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 sì. Anche perché il cronista aveva fatto la cronaca anche qua all'Eurobio, quindi mi aveva visto arrivare, che non ero sofferente, quindi secondo lui diceva agli altri, vedrete che questo farà un ottimo risultato e così è stato. Quindi aveva buon occhio. Anche Zanga nel servizio sottolinea un po' questo aspetto, che non sembri mai stanco. Tra l'altro hai avuto e hai acciacchi, però ti abbiamo visto soltanto in alcuni brani. Sembri veramente, in alcuni brevi video, sembri veramente sereno. Ma sì, perché diciamo che io ho un problema alla schiena anche, lo discopatia non dovrei neanche correre, quindi la prendo sempre con un po' di filosofia e quindi il risultato che viene è sempre un risultato ottenuto in base alle mie possibilità e la prendo anche se non arrivo primo, secondo anche perché è automatico perché non arrivi sempre a podio, ma per vari motivi. Una volta stai male, una volta non ti sei preparato, quindi bisogna prendere anche con filosofia, anche se comunque per arrivare a certi risultati bisogna fare un po' di sacrifici e non pochi. Probabilmente il mio corpo è predisposto a determinati sacrifici e quindi mi viene un po' più facile rispetto a tanti altri. Però ho notato che adesso, essendo poco allenato, faccio fatica anche io, anche a fare meno chilometri si fa fatica. Probabilmente prima ero molto allenato e quindi mi pesava di meno questa fatica, che magari per tanti gli veniva anche dopo pochi chilometri. Hai parlato di sacrifici, ovviamente tu devi conciliare la passione della corsa, che è molto di più di una passione come impegno, al tuo lavoro che è di Vigie del Fuoco. Una giornata molto piena. Sì, esatto, noi facciamo i turni, anche se i turni che facciamo nei Vigie del Fuoco sono molto belli e quindi ti dà tempo di poterti allenare, anche perché non sono dentro nel gruppo sportivo Vigie del Fuoco, quindi se io devo andare a fare delle gare devo chiedere le ferie e purtroppo non sempre posso partecipare a determinate gare perché se l'organigramma è sotto purtroppo non posso andare a fare, prima il dovere e poi il piacere si può dire così. Quindi a volte devo rinunciare a delle gare che mi sarebbe piaciuto fare, che però ovviamente per questioni di servizio e di numeri devo andare a lavorare. Però questo non mi pesa, quindi va bene così. Ti alleni sulle montagne di casa, sei della Val Gandino, almeno nel servizio si vedono bellissimi scorci della Val Gandino e della Valle Cavallina. Sì, esatto, quelle foto che potete vedere le ho fatte lungo la dorsale della sparaere, si chiama così, dove si vedono i due laghi, l'Endine e l'Iseo e dall'altra parte invece ci vede il promontorio del Monte Farno, Pizzo Formico. Solitamente mi alleno su questo versante perché ovviamente abitando a Barzizza ho la fortuna di avere subito le montagne. A pochi metri si può dire come esco, c'è già il sentiero. Mentre invece quando sono al lavoro che smonto la mattina, il mio sentiero, le mie strade di allenamento sono città alta e in realtà è una zona dietro dove ci sono i colli e la ritengo una zona bellissima con molte caratteristiche, soprattutto magari in primavera quando si vede Milano o d'autunno con i colori delle foglie. Poi devo essere sincero, a parte come si esce da Via Codussin dove abbiamo noi la caserma, fai un chilometro di un po' di traffico però dopo sei dentro nella natura e lì puoi fare parecchi chilometri in mezzo alla natura e senza macchine, è un bel posto per allenarsi anche lì e ovviamente lo utilizzo per velocizzare di più la gamba rispetto magari in montagna che magari usi per potenziamento. E d'inverno? D'inverno diventa un po' uno scansofatiche. Devo essere sincero, d'inverno mi imbarca, mi alleno poco e di fatti poi in primavera faccio fatica a ricominciare perché ovviamente ho qualche chilo in più la tonacità dei muscoli viene un po' a mancare però poi nel giro di due o tre mesi, due mesi ritorno in forma però ecco l'inverno lo utilizzo per riposare anche perché purtroppo non avendo mai potuto imparare a sciare quindi o sempre correre è un po' pesante. Anche se si corre sempre anche sulla neve, adesso ci sono un po' di gare. Sì ci sono, ci sono queste gare sulla neve però ecco io lo utilizzo proprio per riposare. Sarebbe stato bello imparare a sciare, fare sci da fondo piuttosto che sci alpinismo dove comunque ti tieni a livello di tonicità del muscolo, bello, importante, invece vabbè. Me ne sto a caldo. È bello anche riposare. Sì. Dicevi appunto qualche acciacco, c'è però ancora qualche progetto? Il progetto principale è quello di riuscire comunque a risolvere il mio problema anche se non sarà semplice per poi ricominciare ad allenarsi in modo molto importante per poter riuscire a fare ancora queste gare lunghe perché ovviamente comunque serve l'allenamento devi stare fuori ore. Quando ero bello allenato facevo sei allenamenti, barra sette allenamenti a settimana praticamente quasi tutti i giorni. Un po' di allenamento a livello muscolare di palestra che quello lo faccio tuttora per il mio problema di schiena e anche comunque per tonicità a livello di busto perché comunque serve allenare non solo le gambe ma anche tutta la muscolatura visto che si parla di fare gare, corse, in giro parecchie ore dove comunque la solicitazione non è solo dei muscoli, delle gambe ma anche del torace, delle braccia e di tutti i muscoli che noi abbiamo in corpo. A queste gare lunghe anche nella Bergamasca, anche nella tua valle si affacciano tanti giovani? Sì, ho visto, vuoi forse il periodo storico, vuoi un po' la pubblicità che c'è stata con i miei successi, molte persone della Bergamasca si sono avvicinate a questo mondo del trail, chi sul corto, chi sul medio, chi sul lungo, però molti giovani e questo fa piacere perché comunque lo sport fa sempre bene diciamo che in estremi è sport, mare non proprio bene bene però sono fragenti di vita, però comunque di base lo sport fa bene Grazie per essere stato con noi Grazie a voi e buona continuazione a tutti Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, a fra poco Ben ritrovati a Orobie Extra A Milano si è tenuta la mostra all'Adda una visione identitaria con le immagini di Vincenzo Martegani un viaggio con il drone lungo tutto il percorso dell'Adda 300 chilometri attorno ai quali si sviluppano tante comunità diverse dalla montagna alla pianura fino al Po La mostra ora arriva a Sondrio nell'ambito del Film Festival ma durante l'inaugurazione dell'esposizione a Milano a Palazzo Lombardia abbiamo realizzato alcune interviste e immagini L'Adda è sicuramente il fiume più identitario della nostra regione la storia, gli eventi che si sono svolti sull'Adda e sulle sponde dell'Adda hanno contribuito a fare la storia della Lombardia Credo che questo sia un bellissimo progetto per cercare di unire le varie territori della nostra e dai montani fino a quelli della pianura e credo che possa essere utilizzato questo progetto anche per estendere il messaggio olimpico coinvolgere un maggior numero di territori nei benefici che le Olimpiadi potranno realizzare in Lombardia quindi credo che partendo da questo progetto si possa realizzare qualcosa di molto interessante anche per il futuro Angelo Riva è presidente del CRAMS, questo centro molto particolare che valorizza i territori nelle chiese ma non soltanto perché con il progetto che è stato presentato oggi è proprio il cuore pulsante di questa valorizzazione dei territori lungo l'asta del fiume Adda quindi innanzitutto partiamo da CRAMS, cosa vuol dire e cosa fa? CRAMS è Centro Ricerca, Arte, Musica e Società all'arte al centro è affiliato con Città dell'arte a un progetto che si chiama Quartieri del Terzo Paradiso e dove l'intenzione è quella di costruire territori dove l'arte che diventa un motore di trasformazione sociale responsabile assieme alla filosofia e al pensiero sostanzialmente cerca di innovare quelle che sono i capitali di relazione, le visioni non solamente economiche del lavoro, dell'abitare dell'educare e del capacitare le persone nei territori dai bambini fino agli anziani per cui è intergenerazionalità la nostra proposta e intersettoriale di sua natura il nostro collegamento diciamo ideale e la visione olistica che abbiamo rispetto ai territori è quella del... abbiamo tre profeti di cui uno è Bergamasco e lo cito per ultimo il primo è Michelangelo Pistoletto, ideatore di questa mela reintegrata che è il simbolo del metadistretto Ada Foodar Valley noi con lui abbiamo deciso cinque anni fa di montare i quartieri del Terzo Paradiso cioè di provare a mettere a terra quest'idea all'interno di cinque quartieri e pensare di trasformarlo basandosi appunto sul capovolgimento di quelle che questa impianto impianto istituzionale politico oggi porta l'economia sopra invece noi l'economia, l'ingegneria e quant'altro le mettiamo sotto un'idea dove l'arte e il pensiero, per cui arte e filosofia invece hanno lo sguardo sul futuro a fine secolo e cercano di aumentare il capitale territoriale, relazionale cioè quei capitali che oggi sono messi in un secondo piano mettendo insieme i settori dell'educazione, della formazione, del cibo per cui tutto il food system, i temi dell'abitare, dell'economia Siamo in debito di altri due nomi di artisti a cui si dispiare I nomi si chiamano Bernard Stigler, filosofo gigantesco morto due anni fa parigino noi ci siamo incrociati tre anni e qualcosa, un tempo fa, circa tre anni e mezzo fa abbiamo deciso di lavorare insieme e Bernard Stigler ha scritto delle opere fondamentali che guardano a tutto questo secolo, tra cui l'assoluta necessità fatto con un collettivo di altri filosofi e sulla base di questo tre anni fa abbiamo montato le baite filosofiche proprio come avamposto del ragionamento sulle città del futuro il terzo bergamasco è Gino Veronelli che prima di morire nel 2004 ha fatto l'ultimo viaggio proprio da noi a cui abbiamo intitolato la nostra cantina, il nostro bunker etilico all'interno del nostro centro che è l'Eco Adafudar Valley è presentato oggi, qui questo metadistretto che ha la mela di pistoletto come simbolo è una sorta di livello più alto a livello geografico territoriale per cui mentre là si parla di 15 mila abitanti qui si parla di 6 milioni e mezzo, quasi 7 milioni di abitanti con un asta, un bacino imbrifero gigantesco che è quello sostanzialmente delle sette province tra le più importanti della regione Lombardia e diciamo che il nostro interesse è proprio quello di portare questa visione del microterritorio, del territorio laboratorio su un macroterritorio che è questo gigantesco di migliaia di chilometri quadrati e che dovrebbe portare a impattare sia come abbiamo detto tra i nostri partner c'è Caritas Ambrosiana, c'è anche la Chiesa Sociale ci sono quelli che rispetto al Cantiere 1 che è quello dell'abolizione delle ingiustizie sociali e delle povertà diventa l'elemento trainante di questa visione umanistica del futuro dove il tentativo è di cambiare tutto partendo da cose molto semplici che sono quelle della natura dell'artificio umano che sta distruggendo la natura e questo terzo paradiso che è questo cerchio l'infinito e il terzo paradiso sono l'infinito con un cerchio in mezzo il cerchio in mezzo è la visione del futuro dove l'uomo riesce attraverso la tecnologia a mettere insieme di nuovo una visione sostenibile, sopportabile ma soprattutto vivibile di questo pianeta Vincenzo Martegani è il fotografo che ha realizzato questo lavoro già presentato peraltro sulle pagine di Orobie nel numero dell'aprile del 2020 e poi dell'aprile del 2023 un racconto dalle sorgenti del fiume Adda all'Alpisella e poi scendendo via via fino all'immissione nell'Ario e poi riprendendo da quando poi esce dal grande lago per continuare la sua corsa verso la pianura e quindi il lungo viaggio verso il Po ecco Vincenzo Martegani tutte fotografie 37 ora sintetizzate in questa mostra che documentano proprio un territorio al quale sei particolarmente legato in quanto abitando a Morbegno mi sposto spesso verso est o verso ovest seguendo sostanzialmente il corso dell'Adda il corso dell'Adda che ho cominciato a indagare negli anni 70 soprattutto in Pian di Spagna e sul lago di Mezzola il Pian di Spagna è diviso e attraversato da questo fiume e quello che mi ha spinto a risalire il suo percorso arrivato in Valle Alpisella ho capito che poteva essere interessante fare una documentazione fotografica su tutto il percorso su oltre 300 km di questo fiume dalle Alpi fino alla pianura fino alla pianura quindi un ambiente tipicamente alpino fino a poi a un ambiente di pianura con i grandi meandri del fiume prima che si immetta nel Grande Po le abbiamo realizzate queste fotografie le hai realizzate in un lungo periodo di tempo utilizzando il drone quindi uno strumento nuovo sì avevo già negli anni 2000 provato con un moto agliante e anche poi facendo delle foto da terra ma il risultato non era stato soddisfacente per me con l'avvento del drone ho capito che questo sarebbe stato il modo migliore per illustrare l'andamento del fiume nel territorio e quindi nel giro di tre anni sostanzialmente si fanno durante la bella stagione queste riprese utilizzando tre tipi di drone ma sempre dalla DJI e ho realizzato questo lavoro è simbolica la partenza di questa mostra allestita nell'ambito del progetto Ada Food Art Valley perché si parte dalla piazza città di Lombardia quindi dal cuore di Milano dall'istituzione della regione Lombardia e poi si toccano i vari territori le sette province non soltanto attraversate dal corso del fiume Ada quindi un viaggio che adesso si ripropone in quello che diventa poi anche un po' il titolo di questa mostra l'Adda, una visione identitaria vale a dire un incontro con i territori con le culture con le tradizioni con le storie con le bellezze territoriali che ogni singola comunità ogni singolo ambito documentano e trasmettono infatti io ho cercato di mettere in evidenza anche le tracce dell'uomo sull'Adda quindi erano le dighe erano i canali di svuotamento le aziende che sono nate per lavorare sull'Adda e anche la parte storica che è quella delle ville dei castelli molto interessanti quindi l'uomo come è intervenuto sull'Adda lo si può leggere in questa mostra lo possiamo leggere dalla prima immagine che è stata scelta simbolicamente per aprire appunto questo allestimento siamo in Valtellina e già qui si documenta quello che è un piccolo rigagnolo diciamo così comunque un piccolo fiume che poi strada facendo diventa importante non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dello sviluppo delle varie economie delle comunità che tocca qui siamo a Sant'Antonio Morignone dove purtroppo nell'87 l'Adda ha fatto il disastro la famosa frana che ha creato distruzioni e lutti il Monte Coppetto, la frana, il lago lo svuotamento eccetera però l'abbiamo scelta un po' come segno di rinascita perché tutti questi riboli si concentrano poi per entrare in un unico canale che porterà il fiume a entrare nel po l'emozione di essere un po' il testimone di questo Adda che appunto ancora oggi ha una sua dimensione identitaria di un territorio così diverso dai 2.102 metri della sua sorgente fin giù appunto a scomparire poi nel Po tra l'altro io ho avuto anche la fortuna di poter vedere questa situazione in più occasioni quando l'Adda era molto forte aveva una portata molto elevata e anche invece quando nell'estate scorsa è arrivato il periodo siccitoso in cui si sono messe in evidenza tutte le problematiche legate all'andamento del fiume perché abbiamo detto che hai iniziato quando questo lavoro di documentazione? Ho cominciato nel 2019 appena prima del Covid e l'ho ultimato quando il Covid ci ha lasciato liberi quindi voglio dire tante ore, tanti giorni trascorsi con il drone lungo l'Adda e non soltanto tu ma anche con dei collaboratori allora Tiziana Barbera che è la mia donna si è sempre occupata di controllare che ci fossero le condizioni ottimali per poter alzare il drone L'ultima notazione cosa ti lascia questa esperienza e cosa vedi per il futuro nel tuo campo della documentazione fotografica? L'esperienza direi che è stato un banco di lavoro un campo di prova adesso mi muovo con molta più sicurezza col drone e ultimati questi lavori che ho fatto sull'Adda e sulla Mera Mera che è nella parte svizzera ma poi arriva a confluire nel lago di Como quindi il fiume che attraversa la Valtellina esattamente la Vacchiavenna sì e il progetto attuale sono arrivato alla metà è il Lario dal drone vedremo bene grazie a Vincenzo Martegani l'invito è a visitare la mostra che itinerante toccherà le varie località della Lombardia è tutto per questa puntata di Oroby Extra grazie per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti